La mia azienda è nata così per caso, io non ero destinato dopo tanti anni ad arrivare di nuovo nei paesi nativi. Ho creato attraverso quello che avevano lasciato i miei genitori e con la poca esperienza che aveva lasciato mio padre, a ritornare nei vecchi passi della mia famiglia. Dalla piccola azienda ci siamo un pochettino aggiornati, ingranditi e cerchiamo di sopravvivere con quello che la terra ci offre. L'attività principale sono gli uriveti, poi abbiamo anche dei ciliegi, noci, fichi. Io sostengo che in questo angolo della vallata non c'è olio che possa paragonarsi nella provincia di Reggio Calabria e forse oltre. Tutto quello che produciamo lo produciamo in una...